Buonasera golosi viewers, bentornati a questo nuovo video, in questo nuovo video in cui andremo a parlare raga delle ultime carte uscite che sono principalmente due, Bruno Fernandes raga che è uscito pot ma alla fine è uscito Maxime e non ne parleremo perché c'è già la versione regalata molto più bustata perché ovviamente raga non credo che nessuno si voglia sbloccare Bruno Fernandes a questo punto del gioco Parleremo dell'incredibile David Luiz ragazzi che è uscito Sammerit, versione stra bustata in confronto al 90 flashback e parleremo di Kloman Lenglet uscito ieri, lui per la prima volta raga perché non aveva versioni, il base lo sapete era buggatissimo, una roba fuori dal comune quindi andremo a parlare un po' di questi due giocatori, cercheremo di fare un po' di confronti insomma la solita minestra prima però nel frattempo guardo qua non perché sono strabico, non Daniel Marotta ma perché sto avviando FIFA che l'ho appena spento prima una premessa come sempre raga questo farà sempre anche il prossimo anno ricordatevi che qualunque parere, parere che sia da un pro o che sia da uno che fa argento 3 è una cosa dannatamente soggettiva è legata all'esperienza che uno ha avuto in quelle partite in quel giorno eccetera eccetera con quel tipo di giocatore quindi quando uno vi dice una cosa raga non è che è legge, cioè se io vi dico per me questo è da sbloccare perché è forte io però non posso essere sicuro che poi a voi piaccia, capite? il mio parere è che è forte perché io mi ci trovo però poi magari a voi non piace e di conseguenza poi ci rimanete male però mi raccomando valutate bene dopo le preview, dopo le review eccetera eccetera che cosa fare in base ai vostri gusti personali, poi ho tanto un giocatore almeno ogni anno lo cagniamo tutti nel senso io anche ho sbloccato della gente che pensavo fosse valida poi mi faceva cagare quindi capita a tutti comunque andiamo su fifa raga, io ho sbloccato tutti e due ovviamente da buon content creator ormai a questo punto dell'anno e come potete vedere li ho usati tutti e due ho usato inizialmente l'huiz prima che uscisse l'angletta a 10 qualche partita poi è uscito l'angletta e l'ho messo a 8 ma ho usato sempre il flashback che vi ricordo io ho usato 980 partite tipo una garanzia il miglior DC del gioco qualità prezzo per me ho sbloccato l'angletta che lui gioca a 10 invece l'ho messo a 8 l'ho provato prima con motore poi con ombra adesso vi andrò a spiegare perché questo cambio il perché ho tentato di cambiare lo stile inteso che sapete non è una cosa da me partiamo proprio da l'huiz allora l'ho sbloccato con i migliori intenti del mondo pensando che non ci fosse un incredibile upgrade chi c'era in live lo sapeva in confronto al flashback perché comunque il flashback aveva stats completamente fake cioè difensivamente già era qualcosa di assurdo riprendeva tutti buttava giù tutti la prima cosa che ho notato nella prima partita è stata l'agilità e la rapidità e la reattività palla al piede che è incredibilmente più alta però è una cosa di contorno perché alla fine sapete raga un difensore palla al piede si si controlla bene la palla va bene ma non è che deve essere pirlo dietro in difesa e questa agilità pensavo raga che fosse anche portata in game quando non aveva la palla purtroppo raga ho notato questo difetto che è un problema per me questo luis mi sembra dannatamente più pesante dell'altro luis ha solo più 4 di forza mi pare quindi non dovrebbe esserci questo abisso ma vi giuro poi ripeto è la mia esperienza di queste 15 partite che ci ho fatto poi magari lo continui a provare altri giorni eccetera va tutto bene ma per ora raga ho notato innanzitutto tutti e due non scadono sia l'anglet cruviz quindi non abbiate fretta a farli ho notato che è un po' pesante da muovere ho notato un po' imballato e lo usavo con motore qua c'è stato il cambio perché la chat io ovviamente sapevo o almeno credevo che non sarebbe cambiato nulla infatti io ho messo ombra e ho notato gli stessi problemi ho messo motore raga sul flashback usavo ombra ma questo è incredibilmente più veloce incredibilmente più impostato difensivamente ho detto metto motore comunque ho messo ombra e continuo a notare questo problema ragazzi cioè io adesso non ho il gameplay da farvi vedere ma se voi andate nella live di ieri perché questo video uscirà domani a mezzogiorno oggi è domenica se voi andate nella live di ieri e vi guardate qualche partita della weekend league vedrete che ne ha combinate alcune che il flashback in 976 partite non ha mai combinato una partita ha rimesso il flashback e è stato impeccabile allora qua c'è da dire una cosa io sono convinto di questa cosa che vi ho appena detto ovvero che è un po' più pesante da muovere e non l'ho trovato così incredibilmente più forte anzi ha proprio quel difetto in più del flashback ma c'è anche da dire che potrebbe essere un discorso un po' di effetto placebo del fatto che ho usato il flashback una vita e quindi sono condizionato mentalmente io lo sapete cerco sempre di essere oggettivo e di fare le review più oggettivamente possibile immedesimandomi anche magari in voi eccetera eccetera e soprattutto in chi non gioca competitivo mi ne frega un cazzo Luiz è sicuramente un giocatore pazzesco alla pari di Virgil, Toz eccetera eccetera non è migliore difensori del gioco se vi devo dire una top 4 vi dico Luiz, Lenglet, Virgil e Ramos tutti gli altri sotto però ho notato questo problema altra cosa certe situazioni dove non contava l'agilità questa volta comunque la velocità di movimento ma contava la velocità a riprendere gli avversari io mi ricordo prima che uscisse questo Luiz cos'era? venerdì o sabato? ma non ricordo comunque una pari di VL in cui il flashback riprese Mbappé, Toz con una rapidetta disumana questo Luiz mi è capitato delle partite in cui non riprendeva giocatori che non si chiamano Mbappé o Mbappé ma ne Toz quindi non lo so raga ripeto l'ho provato solo 15 partite potrebbe essere una cosa mentale eccetera eccetera però l'unica cosa che vi posso dire al 110% se avete il flashback per me al momento tenetevi il flashback tutta la vita poi dopo un po' di review altre review un po' di tempo quando avrete magari anche più credit da buttare se volete fate l'upgrade che in teoria è un upgrade perché altri streamer ad esempio Olli e altri ragazzi l'hanno trovato incredibilmente più forte del flashback e per quello che vi dico il discorso mentale eccetera eccetera perché anche qua abbiamo pareri discordanti per me non è incredibilmente più forte del flashback e per me anzi ho notato qualche difetto in più del flashback quindi raga ripeto aspettate perché anche qua c'è un po' di pareri discordanti poi magari lo provo altre due settimane o una settimana e vi dico guardate che mi ero sbagliato semplicemente ero troppo condizionato mentalmente per il resto giocatore incredibile ragazzi perché difensivamente un muro velocità tolte quelle poche volte comunque quella c'è e quella è passaggi incredibilmente top l'aggressività gliel'hanno ancora boostata ma già l'altro è resta aggressivo quindi sicuramente top DC ragazzi le consiglio a tutti ripeto non posso fare il confronto con tutti non posso la top 4 per me Ramos non in ordine Ramos Virgil Luiz e Lenglet se avete già Ramos e Virgil non scambiabili vi tenete quei due sia per Luiz sia per Lenglet vi tenete quei due se avete tipo Ramos e Militao per me Luiz è 10 volte Militao così come Lenglet comunque questo è il mio pensiero su David Luiz ripeto l'ho provato anche a 10 eh ragazzi prima che mi diciate eh ma lo usi a 8 tra l'altro il flashback l'ho usato penso su 970 l'ho usato 400 partite a 8 Lenglet ragazzi giocatore che ho usato per 8 partite quindi qualcuno in meno 1,86 ma in game come sapete vi ricorderete il base è un po' più grosso anche se non ha il boy tab di Virgil ma è un po' più grosso ha le gambe belle lunghe è un giocatore incredibile lui mi è piaciuto tantissimo perché full automatico perché fa tutto da solo perché è straveloce anche se ogni tanto pure lui sembrava farsi un po' recuperare e sorpassare dagli avversari ma per il resto ragazzi le stats difensive confermate al 110% soprattutto la lettura difensiva la forza sposta chiunque aggressivo l'agilità e l'equilibrio non sono quelli di Ramos assolutamente però reattività 99 freddezza 99 vi assicuro che un po' riusciamo a compensare anche qua avete Ramos tenetevi Ramos avete Virgil Totson Scambio tenetevi Virgil per tutti gli altri per me dovete farlo e vi dico l'englet più di Luiz San Merit vi sembrerà strano ma al momento come vi ho detto per quello che ho provato fino adesso fra questi due stronzi vi dico più l'englet che David Luiz assolutamente se avete il flashback di Luiz invece permettenete il flashback e non vi fate l'englet e aspettate eventualmente a fare l'upgrade a David Luiz 94 però questo l'englet a me ha fatto impazzire perché le partite in cui Luiz ha un po' trollato questo l'englet l'ha cariata parecchio quindi per me stra stra consigliato sincero appena uscito questo l'englet appena uscito questo Ramos ho detto più forti di Ramos io continuo ad avere Ramos contro perché incredibilmente l'hanno piccato tutti l'unico stronzo sono io che non l'ha piccato Ramos quel Ramos ragazzi è qualcosa di disarmante oggi mi ha fatto tirare giù delle madonne ma senza senso quindi se avete Ramos tenete Ramos perché per me è più forte di entrambi per me la difesa definitiva probabilmente qualità prezzo Ramos Luiz o Ramos Virgil o Virgil Luiz cioè una roba allucinante raga quel Sergio Ramos sembra il Totti dell'anno scorso ovviamente parlo di Ramos Totti non c'è questo Ramos Totti non parlo del moments che si è forte ma non quanto il Totti ripeto tutti questi pareri sono assolutamente soggettivi come vedete io ho messo ovviamente ancora l'englet sono frutto di un quindicina decina di partite quindi non una roba a fondo io vi dico la verità poi le review bisogna portarle in tempo eccetera eccetera spesso i giocatori si capiscono già come Vinicius che vi confermo lo sto continuando ad utilizzare Punta se prende l'app vedetevi il video se non l'avete visto sarà devastante mi piace tantissimo così come mi piaceva all'inizio 30 partite 30 gol 24 assist non parliamo di poco ma per avere una idea chiara ragazzi vogliono secondo me dalle 25 alle 35 partite quindi una weekend league Zidane altro giocatore pazzesco tra l'altro giusto così pur parler quindi 25 35 partite ripeto ho notato quei difetti David Ruiz per il resto sicuramente top però mi terrà il flash che fosse in voi l'englet invece straconsigliato perché è un giocatore veramente incredibile full automatico che ne fa di tutti i colori in difesa forte sia quando vai sull'anticipo perché è veloce a muoversi con l'L2 sia quando invece devi fare interventi nello stretto altra cosa speriamo che il prossimo anno ovviamente il gioco cambi sul lato difensivo perché non se ne può più soprattutto con tutte queste carte strabustate dove ormai ne spiegavamo oggi in live avere ormai gullit non ti serve quasi a niente perché ai Fabinho ai Firmino ai tutti quelli avere l'englet o avere i Maldini Moments non ti cambia nulla ma non per un discorso di stats bustate dei giocatori ma per un discorso di CPU quindi io spero vivamente che il prossimo anno cambino le cose perché non è possibile soprattutto a fine gioco arrivare e non avere il tempo neanche di stoppare la palla che soprattutto se il gameplay marci i difensori ti mangiano letteralmente vivi le skill non si possono fare quindi speriamo spero che il prossimo anno il gioco sia più funny in fase offensiva e spero di non vedere più 75-80 sbc di difensori perché se voi contate quante sbc sono uscite di difensori siamo tra le 70 e le 90 credo quindi basta difensori ci sono solo sbc e poi ci sono tutti quelli da comprare quindi spero che il prossimo anno si abbia un po' più di bilanciamento ma questo è un altro discorso non ci interessa detto questo ragazzi buona serata a tutti buona giornata ci vediamo presto in streaming un abbraccio spero di avervi chiarito un po' le idee su questi due campioncini e ci vediamo presto bella raga grazie a tutti